a proposito di agricoltura che sono implicata che hanno conosciuto famiglia hanno cercato se entro in problema di genovasta se gli aggiunto seppurci sciogando l'ansoggiorata gli stai produsso le noi e caci di un esempio sparanghella che ci si può fare se faccia la noa del nord della noa in italia radicchio rosso trebisano darci alla voi non merge poi ma che andano in c'è pezzi caci iphone caci apple io credo che dei due o tre anni voi conoscezze non credo dai nei intesi apposta la copacca credo che sia voi non si potesse schimbare in agricoltura a mentizzo che trebbe piecara data che avesse in faccia un responsabile a colo in esteone che prega che mi riprende granza daniele vorbeste tu hai un nome e gli aspetti scusabili e ci vado e ci faccio ha iniziato in moldova da due o tre anni io mi ha incertato con molti in situazioni in cui non rinchesca se vorbesca la scuola io non vorrei se vorbesca prea molto darvi un esempio queste un'olio che mi si pare che ci sono anche delle polemiche con il primario io non ho l'inche da noi queste cose un'olio andare in casa non c'erano un po' tema della mcdonaldi ad esempio quando la unica non è io mi hanno detto che come è la noi in italia io a zesat firmele a sce va am intrat la beneton la lombarda le soldi amabili le avevano discutere e le avevano anche chi gli ingaggiati hanno apprezzato come crede daka si ringraziamo a scegliere un'ottima e la notizia è una iniziativa era sul semplice facendo una panetta beneton che gli abbiano gli abbiano un po' uno dei autori artisti dobbiamo di legno aici pot essere un'arte plastici ad essere, ai facciamo ceva che rimane un'opera artistica, che è un po' in vitore attraggere se i turisti, non? Prima è molto lì, se c'è lì che viene in vitore. Tu ti puni bene, toste, pane, eccetera, ti puni pubblicità, sicuro che traduci in primeria un proietto che hai platito, che non costa molto, e qualcuno tu ti fai già panori pubblicitari, hai risolvato il problema, hai fatto ceva, è un servizio pubblico, come si spune, per curazione, per c'è un servizio pubblico, hai castigato, hai fatto pubblicità, ma è buona, decata che neppuni me lo vesti, per c'è sti panori, potremmai male, hai fatto questo servizio pubblico, c'è un po', è sicuro, c'è la noi, sicuro siete in place a ita, perché ascià se legge le di economia, se discarica il TVA, c'è, tu vedi che è ascià, probabile se discarica d'intaxale, e ne hai dato un servizio, perché non si inserisce, perché aspettiamo la mia cispe, perché avemmo un costo con noi, lungo, lungo bulevar, c'è dopo bulevar, e c'è una carta di vista, mi sembra, Stefano, c'è il mare, dentro Cisinau, no? Da, uno viene, è vero, è ammordato, non è, c'è da un desiderio, non è Napoli, anche la città che era Cisinau, era un orace, eh? Ascià, no? No, eh, a mentiteve, eh, noi trebbe che, eh, eh, no, eh, cautam che care data la persona rispettiva, non un partito o un gruppo. Con un gruppo, come mi sei intitolato la mine, scusa, dove si farà, so dai tipico, io ho i tre vicini, in vero, stincio, ascià, voi avete tendenza, viene, dovremmo, non è separato, se faccio, in termini psicologici, se spune, ai, ha detto che avevo un inizio, uno, c'è l'altro, c'è l'altro, c'è l'altro, c'è l'altro, c'è l'altro, c'è l'altro, vi viene spontanea, incontriva, italiana, incontriva, spiegli. Noi, io ho ammordato, nulla voi, e a questa tendenza viene, dovremmo, di intrecur, però non credere scappando in asta, eh, perché, ha detto, io ho detto che, di gruppo, di team, e vorremmo mai molte persone rispettive, credo che vieni a fare la persona responsabile, da che non risolviamo niente di niente. Grazie a tutti. Grazie a tutti.